ciao ragazzi buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale cantare libertà eccoci ancora nello spazio riservato a come suonare delle canzoni facili al pianoforte e oggi siamo in compagnia di roberta pisciotta che è una cantante molto brava che ci aiuterà in questo a cantare questo pezzo mentre io lo suono siamo pronti sì sigla bene questo è un brano che è composto per la strofa di quattro accordi e sono mi minore sappiamo bene che dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il do quindi do re questo è mi e l'accordo di mi minore si suonerà mi sol si subito dopo avremo l'accordo di sol sol si re a seguire re maggiore quindi re fa diesis la ed infine il la maggiore se questo è do si e il brano è composto faremo sempre due battute per ogni accordo e farà così bene e la strofa è composta sempre di questi quattro accordi poi c'è una parte in cui gli accordi sono due è una specie di bridge che ci porta al ritornello e la cosi sono soltanto mi minore e la maggiore e fa così e poi qui c'è il ritornello che è comunque sempre con questi due accordi mi minore e la maggiore eccetera eccetera poi il brano va avanti e gli accordi si ripetono sempre più o meno allo stesso modo bene come avete visto anche questo è un brano molto facile da suonare al pianoforte io vi lascio comunque in descrizione un link su dove trovare il testo con gli accordi scritti e inoltre la diteggiatura per la mano destra e per la mano sinistra io ringrazio inoltre roberta per essere stata qui con noi grazie a te per essere stata qui con noi ho detto per essere stata però lei è così brava che sembrano due e vi diamo appuntamento alla prossima puntata ciao ciao